Tutto il meteo in pochi giorni, dopo le nevicate che hanno imbiancato il Varesotto ma senza provocare particolari disagi, arriva la pioggia che proseguirà per tutto domani, dopodiché un'occhiata di sole. Spettacolare è partecipata come sempre la tradizionale serata della Giobbia con il falò e l'elenco dei desideri, vi raccontiamo la grande festa di Busso Arsizio. Si apre il Mese per la Vita, tra gli appuntamenti in programma, Cineforum, dibattiti e una visita guidata alla Casa Natale di Papa Paolo VI. A pochi giorni dalla scomparsa di Giuseppe Zamberletti alla vigilia dello speciale che Rete 55 dedicherà all'esequio e Somma Lombardo cerca di rafforzare la propria dote di volontari e avvia un corso ad hoc. Nella pagina sportiva il rinvio della gara del Varese, le ultime dalla Propatria con il collaudato appuntamento di Bianco Blu stasera su Rete 55, poi le anticipazioni di Bocce Forum. Buonasera e benvenuti con la nostra informazione. Come da previsioni, la neve è arrivata sul Varesotto la scorsa notte, ricoprendo di un manto bianco e farinoso l'intero territorio. I mezzi allertati per tempo hanno battuto per tutta la notte le strade provinciali ai più trafficati tratti dei paesi, garantendo una circolazione tutto sommato tranquilla, benché rallentata e limitando i disagi. Scuole chiuse per precauzione nell'Alto Varesotto. Per ogni aggiornamento su situazione e previsioni vi diamo appuntamento all'approfondimento del centro geofisico prealpino, questa sera a margine del telegiornale. E a Busto Arsizio la neve non ha affermato la giobbia e le sue tradizioni. Vediamo il servizio di Chiara Milani che ha seguito per noi l'evento. La propatria che compie cent'anni ma anche la fontana di Piazza Emanuele II con immancabili stoccate politiche da qui all'Europa. Ecco alcuni degli argomenti mandati ieri a rogo dai bustocchi in occasione del falò propiziatorio della gebbia. Ma la giunta che cosa brucierebbe? La cattiveria e la maleducazione. Beh, insieme alla gebbia bruciamo sicuramente l'inverno, ma anche tutte le cattivere, le invidie, i pettegolezzi, le cose mal interpretate. Stiamo lavorando bene per la nostra città, abbiamo una ricchezza incredibile di associazioni ed è dimostrato da tutto il lavoro che hanno fatto oggi gratuitamente per la città. La gente ci segue e quindi buon, diciamo così, inizio primavera a tutti. Niente, sennò iniziano le polemiche. La gebbia non deve essere polemica. La gebbia si brucia l'inverno, si bruciano anche, perché ultimamente è stata un po' anche ironia, e quindi si bruciano anche le cose che non piacciono alle persone. Ma è giusto farla, una tradizione va rispettata sempre e comunque. Tra chi si toglie qualche sassolino dalla scarpa e chi si mantiene diplomatico, l'esecutivo ha partecipato ai falò, seguiti dalla tradizionale risottata con la luganica, non soltanto in centro, ma anche in periferia. Del resto è proprio questo il bello della gebbia. È una tradizione talmente radicata in città che non si limita a una piazza, ma si celebra in tante piazze e diversi cortili, coinvolgendo molte associazioni con un rituale che viene insegnato ai cittadini fin da piccolissimi, partendo in alcuni casi persino dall'asilo, dove l'ultimo giovedì di gennaio non manca il fantoccio di paglie e stracci da accendere. Anche se, ai giorni nostri, naturalmente le precauzioni legate alla sicurezza sono molte di più. Ma ancora oggi, quando, come ricordava una delle gebbie, i genitori passano più tempo al cellulare che a giocare con i propri figli, questa millenaria tradizione è capace di riunire le famiglie e riportarle in piazza, nonostante le temperature non siano praticamente mai miti, perché il fuoco che arde nel cuore dei bustocchi nei confronti di questa usanza scalda davvero tutti i cuori. E ora la cronaca. Rapina una tabaccheria viene arrestato, è accaduto a Castellanza, in manette un uomo di 50 anni pluripregiudicato e disoccupato. Dovrà scontare una pena residua di due anni e cinque mesi. Si apre il mese per la vita e moltissime sono le iniziative organizzate per le famiglie a Varese e non solo. La famiglia come bene insostituibile della società è al centro della 41esima giornata per la vita che si celebra in tutta Italia al 3 febbraio, proponendo una riflessione sulla bellezza dell'esistenza dal principio alla fine e sulla famiglia come sua culla natale. Molti gli eventi, gli approfondimenti nella città di Varese per tutta la durata del mese della vita. Domenica nelle piazze delle chiese saranno distribuite le arance a sostegno delle opere di volontariato del movimento e centro aiuto alla vita di Varese, Malnate e Valceresio. Martedì 5 febbraio primo appuntamento con il Cineforma al Convento dei Frati Cappuccini con Wonder, film sul bullismo, il 12 febbraio con l'enfant sulla paternità e il 19 febbraio con una famiglia sul traffico di neonati. Il 19 e 22 febbraio appuntamenti per bambini e ragazzi. In questo mese per la vita abbiamo dato uno spazio ampio ai bambini e ai giovani organizzando un concorso per i più piccini, per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sul tema della tenerezza. Martedì 19 ci sarà la premiazione dei lavori dei bambini. Il 22 invece è stata organizzata una conferenza per i più grandi di studenti delle scuole superiori sul tema della cultura dell'odio e dello scarto e la cultura invece della responsabilità e della prossimità. Come relatore avremo il dottor Martinez che è presidente del rinnovamento nello spito ma è stato anche rappresentante speciale della presidenza italiana in esercizio OSCE per il 2018 con delega la lotta al razzismo, alla xenofobia, alla discriminazione. Insieme a lui Amerigo Fusco comandante della casa di reclusione di opera e Marco Rodari clown attivo in zone di guerra. La sera del 22 febbraio alle 21 alla cripta di Masnago incontro dedicato all'amore coniugale alla famiglia con Salvatore Martinez. Il 23 febbraio visita la casa natale di San Paolo VI. Molti gli appuntamenti organizzati dalle associazioni pensate per adulti e bambini e tutti consultabili sul sito vitavarese.org. La mia presenza qui oggi a questo evento è per sottolineare la vicinanza della Chiesa a tutto ciò che serve per la vita. Sono diverse iniziative che il Movimento per la vita insieme ad altre associazioni ha pensato per questo mese che da anni è dedicato alla vita ed è bello perché si possa riflettere la vita in tutti i suoi aspetti, per chi nasce, per chi vive, per chi muore e tante volte viene a mancare questo rispetto della vita, non soltanto quella nascente ma anche durante la propria esistenza. Basta vedere i tanti femminicidi, i tanti omicidi che vengono compiuti per motivazioni molto superficiali. Ci dicono che abbiamo bisogno di riscoprire questo, tutti insieme, perché la nostra società possa essere una società che ama la vita e che difende la vita. Da 29 anni siamo sul territorio, operiamo a Busto Arsizio con una sede in Via Pozzi e una volta alla settimana siamo anche presenti in ospedale. Nel 2018 abbiamo avuto la fortuna di far nascere 47 bambini, abbiamo assistito 79 donne, 65 delle quali gestanti. Le percentuali sono, il 9% sono donne italiane, il 91% donne straniere. Solitamente quando accogliamo le nostre donne al centro, nella nostra sede, sono per la maggior parte straniere, mentre in ospedale sono più le donne italiane che incontriamo. Del resto si sa, dopo i giorni della merla, quest'anno nel Varesotto, contraddistinti persino dalla neve, la parte più fredda dell'inverno dovrebbe essere passata e sui terreni si dovrebbero iniziare a vedere spuntare i primi germogli delle primule. Un segnale che la speranza può sempre tornare a fiorire, anche per le mamme in difficoltà. Così puntuale, sabato 2 e domenica 3 febbraio, su tutti i sagrati di Busto Arsizio e della Valle Olona, torna il primula dei del Centro di Aiuto alla Vita. Il progetto Gemma, che è un'adozione a distanza di madre e figlio, consiste in un contributo di 160 euro mensili per 18 mesi, sei mesi prima della nascita fino a un anno di vita del bambino. Noi qui a Busto non abbiamo usufruito di questo progetto, però grazie alla generosità dei Bustesi siamo riusciti a offrirne ben 9 di questi progetti alle future mamme italiane. A questo proposto è bello ricordare e ringraziare ancora una volta la parrocchia di San Giuseppe dell'ospedale, perché da ben 22 anni ogni anno riesce a fare un progetto Gemma e donarlo alle mamme italiane. Si apre domani al Museo del Tessile di Busto Arsizio la mostra dedicata a Maria Lai e Franca Sonnino, capolavori di Fiber Art Italiana. Un'esposizione dedicata a una grandissima artista riconosciuta a livello internazionale e alla sua allieva prediletta, ancora in attività, che resterà aperta a Busto Arsizio fino al 3 marzo. Si tratta di un progetto espositivo proposto dalla Fondazione Bertolaso Totaro Sponga in collaborazione con l'assessorato alla cultura di Busto. La protezione civile di Somma Lombardo è invece alla ricerca di nuovi volontari. Vediamo il servizio. Il volontario di protezione civile ha un ruolo prezioso nella comunità in cui opera. Diffonde la cultura di rispetto dell'ambiente, scende in campo con coraggio per difendere il territorio, spesso vittima di atti vandalici e di catastrofi naturali, e lavora a stretto contatto con i giovani, partecipando ad incontri nelle scuole per educarli e sensibilizzarli. Il volontario di protezione civile è dunque una risorsa inestimabile che va tutelata e gratificata. Il gruppo di Somma Lombardo, attivo da dieci anni, è sempre pronto ad intervenire ad affiancare le forze dell'ordine per mantenere un clima di pace e di sicurezza in città. Il nostro gruppo è un gruppo di volontari del Comune Somma Lombardo ed è attivo sulla provincia da più di dieci anni. È regolarmente iscritto all'albo regionale del volontariato ed è composto da 20 volontari suddivisi in tre squadre, più una squadra di primo intervento. Agiscono a tutela del territorio, dell'ambiente, in aiuto alla cittadinanza, sia in situazioni emergenziali che in situazioni di pace. Le attività del nostro gruppo principalmente sono logistica, taglio alberi e rischio idrogeologico. Servono nuovi volontari, giovani e pieni di voglia di fare, prosegue Sanna. E a chi ha più di 18 anni e ha voglia di lavorare sul territorio, ha voglia di aiutare le persone in caso di emergenze, in caso di calamità, di venire a trovarci il primo e terzo mercoledì del mese, in via processione 9 a Somma Lombardo, oppure lasciare un loro recapito ai vigili urbani di Somma e verranno contattati. Somma Lombardo, città a misura di bici, a dirlo l'assessore Ilaria Ceriani. A Somma Lombardo si torna a parlare di viabilità sostenibile e si punta l'attenzione in particolare sulle piste ciclabili. La cittadinanza è invitata a partecipare a un incontro pubblico dedicato al tema, in programma nella sala polivalente della Biblioteca Cittadina il 4 febbraio. Lunedì prossimo, il 4 febbraio, alla sera alle 21 in sala polivalente della Biblioteca, terremo un incontro pubblico. Saranno presenti anche i tecnici che hanno lavorato con noi, con l'ufficio, alla stesura del piano e quindi illustreremo quelle che sono le scelte che stiamo andando a compiere. A questo piano abbiamo voluto dare una grande importanza alla mobilità sostenibile. Abbiamo messo in programma parecchie piste ciclopedonali, alcune sono già canterizzate, alcune sono invece in progetto, altre in previsione, perché vogliamo dare la possibilità ai cittadini di Somma di muoversi all'interno della città in modo più facile, più sicuro e senza dover sempre prendere l'auto. Perché spesso l'uso dell'auto avviene anche all'interno della città, per spostamenti a volte anche brevi, ed è invece giusto e corretto ed ecologico che i cittadini comincino comunque invece ad utilizzare anche altri modi di muoversi, perché comunque le auto oltre a generare traffico generano parecchio inquinamento e sappiamo quanto la nostra zona purtroppo sia già vessata da parecchie fonti di inquinamento. E quindi questo è sicuramente un punto fondamentale del nostro piano. Un coro per dire no all'omofobia. Continua a Cardano al Campo la rassegna di musica barocca che questa sera porta nella sala consigliare Sandro Pertini il coro di voci maschili Cosmos che spazieranno dalla musica rinascimentale a quella contemporanea. Il progetto Cosmos nasce a Bologna nel 2008 ed è la prima formazione gay corale d'Italia. Diretto da Lorenzo Orlandi vuole diffondere e promuovere la conoscenza della musica abbattendo stereotipi e discriminazioni. La musica dunque per unire e avvicinare le persone. Il premio Chiara ricorda l'evento di domenica pomeriggio a Villare Calcati a Varese in programma la premiazione del primo concorso di videomaking lanciato l'anno scorso e incentrato su un cortometraggio dedicato alla figura di Piero Chiara appuntamento alle 17. Per ora con le principali notizie mi fermo qui, ci vediamo tra poco con la pagina sportiva.